Noi incominciamo un percorso che non sarà proprio facile, perché motivi sono fondamentalmente tre. Il primo è che nessuno di noi se li ricorda, perché se io pescassi a caso uno di voi e dicessi mi dica i dieci comandamenti, ma neanche per il pifero arrivereste a dieci, e tra l'altro in disordine. Poi c'è un secondo motivo. Noi siamo abituati al decalogo catechistico. Il decalogo biblico è molto diverso. Quando noi prenderemo contatto, nelle domeniche successive a questa, con il testo biblico e faremo l'esegesi del testo biblico, ci accorgeremo che le cose sono diverse. Per certi aspetti molto più esigenti, per altri molto più liberali. Per alcuni aspetti vedremo che i comandamenti sono severi, ma per molti altri sono estremamente umani e, fra virgolette, comprensivi. Provate a fare questo pensiero semplice. Noi siamo dentro a questa sala. Se io vi dicessi non andate vicino alla pianta, vi resta la libertà di girare tutta la sala. Il comandamento negativo è quello più libertario perché ti dice esattamente questo no. Tutto il resto, fai quello che vuoi. Se io vi dicessi invece ama il prossimo tuo come te stesso o quello o quello non avete alternativa. Nessuno di noi forse ci pensa a questo ma se ci riflettete i comandamenti sono prima di ogni altra cosa un codice di grande libertà. proprio perché la stragrande maggioranza dei comandamenti è in forma negativa e quelli che sono in forma positiva bisogna capirli perché il comandamento non dice onora il padre e la madre. Noi lo ripetiamo come fosse così non è così. Il comandamento ebraico originario dice dai il giusto peso che è un'altra cosa. E quando si dice santifica il sabato non vuol dire mettere le mani giunte e pregare tutto il giorno. Impareremo qui ci sono diverse persone che hanno fatto il corso di ebraico in giugno con me adesso il 21 dicembre che è un lunedì alla sera voglio fare un ripasso e vedere cosa è rimasto perché l'ebraico è una di quelle lingue che tu devi dimenticarle sei volte quando la reimpari per la settima volta non ti scappa più ma le prime sei volte le impari e le dimentichi. quando noi dunque leggiamo il testo in originale ci accorgiamo che ci sono delle sorprese ecco perché vi dicevo secondo motivo è difficile questo percorso è ancora difficile per un terzo motivo quando noi entriamo nel nuovo testamento greco ci accorgiamo che nel nuovo testamento non c'è nessuna legge non c'è nessuna legge ma appena ha annunciato la legge ama il prossimo tuo come te stesso no non è una legge perché non è una legge perché il maestro ci ha tirato il bidone quando lui nell'ultima cena riprende in mano questo principio lo svuota da qualunque valore giuridico perché afferma amatevi gli uni gli altri non è una legge è una imitazione io imito qualcuno nella misura in cui lo conosco e lo amo se io non lo conosco o lo conosco poco e non lo amo o lo amo poco è chiaro che l'imitazione sarà sbiadita però è il massimo che posso dare se io invece lo conosco e lo amo posso molto di più ed è quello che posso dare capite perché non è una legge perché la legge o la osservi o la osservi se no il vigile ti dà la multa questa non è una legge quindi noi dovremmo fare questo itinerario passare da quello che è l'anarchia nei rapporti interpersonali degli uomini oggi parleremo di questo e il bisogno che c'è di una legge poi vedremo di capire bene questa legge e poi faremo il salto nel nuovo testamento e dovremmo destrutturare la nostra mentalità ricavando da questi dieci comandamenti solo qualcosa non tutto perché i dieci comandamenti che ci piaccia o meno sono la morale ebraica non la morale cristiana quindi sono utili sono importanti fanno da confine oltre i quali non si può andare ma non è questa la morale che Cristo ha proposto e fare questo passaggio può costare fatica perché per le persone che non sono abituate a fare i conti continuamente con la propria coscienza ma sono abituati invece a fare i conti con un prontuario non si troveranno più il prontuario e dovranno di volta in volta appellarsi a quanto la coscienza conosca di Gesù Cristo e che tipo di scelta abbiamo fatto nei suoi confronti cambia la morale in maniera radicale quando mi chiamano a fare degli incontri e mi dicono professore qual è la morale del nuovo testamento io resto un po' perplesso dico la morale del nuovo testamento è una persona punto e di quella persona nessuno sa niente tranne di quello che è scritto nei Vangeli e quindi la morale del nuovo testamento sono i quattro Vangeli ma non in quanto testo scritto in quanto presentazione di una persona ecco perché dunque il nostro percorso avrà un certo impegno quindi noi passando dalla situazione disastrosa alla legge alla comprensione del decalogo al salto dobbiamo elasticizzare i nostri neuroni c'è qualcuno che è disposto e c'è qualcuno che senza cattiveria senza pregiudizio non è predisposto e farà fatica e quindi non si meravigli è umano se andate alla linea 10 avete l'elenco degli incontri che faremo oggi dalla prepotenza alla legge ma daremo un'occhiata non certo ai comandamenti per il momento prossima volta invece vedremo i valori morali precedenti i comandamenti sappiamo che i comandamenti sono stati dati nel XIII secolo avanti Cristo sono una cosa unica di per sé però non è che prima il popolo ebraico vivesse come le capre aveva alcuni valori vediamo quali poi prenderemo contatto nel terzo incontro in dicembre con un fatto che a molte persone non piace perché noi abbiamo una concezione della parola di Dio molto algebrica mentre invece la parola di Dio è stata seminata in un popolo e man mano questo popolo cammina matura cresce a livello di fede a livello di cultura recepisce meglio ciò che è stato dipositato in lui e ci lascia una testimonianza progressivamente più matura quindi i dieci comandamenti che noi troviamo in esodo 20 siamo probabilmente verso l'ottavo secolo avanti Cristo capite bene che dal tredicesimo all'ottavo ci sono cinque secoli c'è stato un cammino e ci accorgeremo a livello letterario che questo cammino c'è stato e il livello letterario è l'unico che abbiamo per entrare dentro e capire qual è stata l'evoluzione storica perché non abbiamo altro e ci accorgeremo che ci sono stati delle mutazioni non sui valori ma sul modo di vivere quei valori e poi ci scontreremo con un altro decalogo perché i decaloghi sono due Deuteronomio 5 dice qualche cosa di diverso di esodo 20 e allora ci interrogheremo che cos'è successo oggi al sinodo si stanno discutendo queste cose non si stanno discutendo i comandamenti si sta discutendo come mai si passa da esodo 20 ad Deuteronomio 5 cioè come mai i valori sono gli stessi ma la formulazione è diversa e quindi il modo di vivere quei valori è diversa possiamo noi vivere oggi con una società così complessa come quella di oggi con gli stessi criteri morali con cui vivevamo due tre secoli fa quando la società era molto meno complessa la risposta di alcuni è sì perché la dottrina è sempre uguale no la dottrina non è sempre uguale è la fede che è sempre uguale Gesù Cristo è sempre uguale ieri oggi e in futuro ma il modo di incarnare questa fede è diverso e noi cercheremo di capire questo nel terzo incontro cioè perché c'è questo cambiamento e quanto è corretto cambiare forme la carità una volta era dare due palanche la carità oggi è trovare un posto di lavoro a quella persona sono due forme diverse prima con un gesto te la cavavi adesso invece se vuoi fare veramente la carità costa perché devi attivarti a cercare domandare vedere e in questo caso cosa doni non i soldi doni il tempo che è una carità altrettanto grande enorme e scusate la battuta ma Ozzatun è contento perché vi stai dando l'amo perché impari a pescare non darli pesce in gennaio vedremo i primi tre comandamenti l'unicità di Dio il comandamento del nome e le feste tutta roba che appartiene a lui poi vedremo l'aspetto chiamiamolo così relazionale umano gli altri sei sette prenderemo in esame secondo un criterio che oggi spiegheremo perché non si può prendere il brano che tra l'altro è formato da due parti soltanto c'è la negazione e c'è il verbo e dire di fronte a queste due parole secondo me non ditelo mai quando si tratta di esprimere opinioni ditelo pure sempre ma le opinioni non fanno la verità noi stiamo leggendo un testo e la domanda esatta è che cosa ha inteso dire l'autore e bisogna che troviamo dei metodi che siano oggettivi quindi praticabili da chiunque per poter capire ciò che dicono quelle due parole faremo un po' di fatica gli ultimi due incontri invece saranno dedicati a quel salto di cui parlavamo prima nei comandamenti non c'è l'obbligo del perdono e quindi da lì capiremo è solo un esempio per capire come i comandamenti non siano un decalogo pienamente adatto al cristiano Gesù è stato molto severo su questo principio se voi prendete il Vangelo di Matteo nel discorso della montagna trovate il Padre Nostro finito il Padre Nostro Gesù fa un piccolo commento sul padre sul pane sul santificare il nome ma che commento che fa Gesù lo fa solo sul perdono e dice una cosa che fa drizzare i peli se non perdonate non sarete non sarete perdonati è grossa e nella sua predicazione ritornerà con la misura con cui misurate sarete misurati guardate che sono frasi pesanti però noi con il rifugio dei dieci comandamenti a queste affermazioni non pensiamo mai ma queste affermazioni sono quelle davanti alle quali ci giochiamo qualcosa di importante e quindi comprendiamo come i dieci comandamenti sono sì utili importanti perché no ma non sono la morale cristiana e nell'ultimo incontro scopriremo il facilissimo e semplicissimo meccanismo della morale cristiana chi volesse approfondire i temi che tratteremo lungo questi incontri li ha una bibliografia minimale ma sufficientemente seria alla linea 20 avete l'immancabile la cosa simpatica è che quest'uomo mamma mia sa scrivere bene e lo si legge volentieri non è proprio molto scientifico però un primo approccio serio con lui si può fare poi ovviamente notate che ci sono due nordafricani una è una gentile signora la Schüngel Strauman mentre l'altro Schmidt è un gentile signore questi sono libri piccoli ma impegnativi perché ovviamente c'è riferimento non solo al testo ebraico originale ma c'è riferimento anche alle culture coeve a certe tecniche storico critiche o storico letterarie quindi se pensate di acquistare uno dei due sappiate che occorre un certo impegno per leggerli il primo invece credetemi lo si legge volentieri come bere un bicchiere d'acqua l'ultimo quello della linea 23 diciamo così è sufficientemente scientifico per essere proposto a questa assemblea ed è sufficientemente italiano per dire giovanotto un po' più di serietà però se uno dice io non voglio cose che mi fermino la digestione benissimo professor Tonelli va da Dio se invece volete affrontare il problema non a livello biblico ma a livello puramente di teologia morale c'è alla linea 25 un ateo molto liberale però non anticristiano assolutamente il quale si è misurato con il decalogo e ha fatto un commento molto bello a livello filosofico etico rispettoso del contenuto ma dal punto di vista del non credente mentre invece dal punto di vista dei credenti il cardinale tetamanzi adesso che è in pensione è ritornato alla materia di cui è stato docente universitario e ha scritto questa bella opera questo è veramente un bonbon a livello morale quindi avete la possibilità fra questi sei libri di scegliere qualche cosa che accompagni le riflessioni esegetiche che faremo in questa sede di scegliere di scegliere